Assessore Dario Loffredo, si è reso necessario per il Comune di Salerno diffidare i mercatali per le condizioni in cui venivano lasciati gli spazi dei mercati della città? Credo che era una cosa doverosa, ci hanno segnalato molti cittadini dove in tutte le aree mercatali, ma soprattutto nell'area del mercato di Via Piave, oggi il mercato momentaneamente a Piazza Casalbore, siamo andati anche sul posto col Sindaco e abbiamo trovato veramente l'area in condizioni igienico-sanitarie indecenti. Questo non giova a una città pulita, serena e non giova sicuramente a un quartiere storico come quello di Piazza Casalbore. Quindi abbiamo scritto questa lettera a due mani col Sindaco e non vogliamo che per colpa di alcuni operatori che sono sicuramente una stretta minoranza vadano per sotto tutti gli operatori che invece nella streganda maggioranza sono persone che rispettano chiaramente il conferimento dei rifiuti. Quindi da oggi saremo più attenti e non accetteremo nel modo più assoluto questi comportamenti. Il quartiere di Piazza Casalbore, come tutti i quartieri, devono avere una propria dignità, un proprio decoro, pugno duro, chi sbaglia paga, fino a togliere chiaramente dopo i verbali la licenza perché i quartieri vanno preservati e soprattutto in un periodo di pandemia l'igiene e la pulizia ancora di più deve essere salvaguardata. Abbiamo visitato l'area mercatale di Piazza Casalbore, i mercatali questa mattina avevano anche dei grossi bustoni neri dove riponevano i rifiuti. C'è sicuramente qualcuno che durante questo periodo è stato poco attento ma loro ovviamente si ritengono in regola. Se si ritengono in regola mi fa piacere, significa quindi che da oggi sono comparsi dei bustoni che forse ieri non c'erano, quindi vuol dire che già questo monito che ieri è stato fatto voglio dire insieme al sindaco ha dato i suoi frutti. In regola non sono alcuni di loro, voglio dire tutti quanti abbiamo le immagini, le foto di come viene lasciato il mercato di via Piave in condizioni veramente indecenti e non va bene così, quindi credo che da oggi siamo convinti che lavoreremo tutti nella stessa direzione, gli operatori mercatali, l'amministrazione, il corpo di polizia municipale sicuramente andremo avanti facendo una cosa più decorosa, altrimenti chi sbaglierà pagherà con le ammende. Per i mercatali però l'area non era regola perché i bagni chimici sono comparsi solo negli ultimi giorni a loro avviso se si sono creati dei problemi sul piazzale sono anche legati al fatto l'abbiamo scoperto noi con loro che addirittura alcuni mercatali riponevano le urine nelle buste. Guardi, questo che lei mi dice mi sconvolge, io se non trovo un bagno per fare l'urina mi scusi che farlo così sicuramente non la faccio a terra, questo mi sa un comportamento più di, mi riporta più a probabilmente i boscimani dell'antica Africa, no non credo che sia questo, noi da qualche settimana abbiamo pure messo i bagni chimici nel modo più assoluto, voglio solo ricordare che gli operatori mercatali ci hanno richiesto di stare a Piazza Casalboli in maniera transitoria perché stiamo facendo chiaramente in modo doveroso dopo 20 anni che non si faceva il nuovo mercato che ci è costato un milione di euro proprio a sostegno per ridare dignità al quartiere di Via Piave e soprattutto al mercato alimentare di Piazza Vittorio e a tutta l'area e soprattutto dare la possibilità agli operatori di lavorare in un mercato degno recintato con le telecamere, con un pello fisso dei vigili urbani, con dei bagni nuovi sia per loro che per gli avventori con una copertura non solo per ogni operatore mercatale ma anche per la passeggiata, quindi è un momento transitorio, loro lo sapevano che l'area di Piazza Casalboli è un'area non adibita al mercato ma in ogni caso ci siamo perché nei primi di settembre, credo nei primi 15 giorni di settembre, finalmente inaugureremo questo nuovo mercato e da lì poi non teneremo assolutamente qualsiasi disguido dal punto di vista dell'immondizia anche perché il mercato sarà recintato e quindi si vedrà se sono i cittadini residenti o gli operatori mercatali, insomma. Proprio i residenti chiedevano non potrebbe essere più opportuno e magari più utile riporre dei grossi cassonetti dove i mercatali a fine giornata possono riporre tutto ciò che deve essere buttato? Tutti i consigli da parte dei residenti, dal comitato di quartiere, degli operatori mercatali sono ben accetti, se su io con loro ho un filo diretto potrebbero anche gli operatori mercatali dotarsi loro probabilmente di qualche sacco grande come lei ha poco detto, poco anzi, oppure di portare un grande sacconetto per riporre. Poi gli dici credo che il decoro parte da ogni operatore, poi dall'amministrazione, poi dagli operatori di Salerno Pulita, però credo che, lo dico sempre, guardi il primo gesto non pensare mai di fare qualcosa che facciano gli altri, falla tu, inizia a dare il buon esempio. Quindi il primo step deve essere quello degli operatori, anche perché penso che lavorare in un ambiente dove il giorno dopo ci devi tornare, sia il primo passo per il decoro e per l'imbandonamento dello status quo della vita familiare del lavoro.